Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono FuraMintendo e un benvenuto a tutti nel mio primo video reazione al Nintendo E3 Direct, buona visione! Ed eccoci qua amici miei, manca davvero pochissimo ormai, 5, 4, 3, 2, 1! Oh siii! Nintendo Direct E3 2021! Eccoci qua! Yoshiaki Koizumi Oh siii iniziamo! Non dirmi che già partiamo, ah no ok mi sembrava Tazuya? Aspetta un minuto Ah ma è lui! Ah! Chi è questo personaggio? Ah ecco il capitano! La butta nella lava così! Ma veramente! Tutta sta malvagità! Oh mio Dio! Riki non guardare questo video! Non conosco questo gioco mi dispiace! Ricordante il personaggio di questo luogo sarà la tua tomba! E' la madonna! Ma subito così quindi! Per? Ah è di Tekken! Oddio! No Kirby no eh! No Kirby no eh! Non lo accetto Kirby! No Kirby può fluttuare! Cioè Dio santo! Ah ecco mi sembrava! Oh Sakurai! Oh Sakurai! 28 giugno! Ah! Però! È vicino! Nuovo round di Mario Party! Bene! Dall'area del Nintendo 64! Oddio è vero! Spaceland! Da dove? Da Mario Party 8? Si quello c'era su Mario 64 è vero! Anche questo! Oddio! L'hanno reso più cartonesco! Questo l'ho giocato su... Com'è che si chiama? Su Mario Party Top... No! Top One Android quello lì! Mario Party Superstars! Arrivo su Nintendo Switch il 29 ottobre! Mecca! Preordine! Ma aspetta un minuto! Ma avevi detto che... Sarei Metroid Prime! Metroid Prime 4! Che abbiamo già annunciato! Tipo nel 2017 sono usciti i taser! Quindi figuriamoci! Che Metroid è? 5! 5! Ok non sembra avere efficacia il suo fucile! Un bel missile! Neanche! Un Metroid in 2D! Eh però! Metroid Dread! Come è contro ecco! E Gastarir! Si ci somiglia molto in effetti! 8 ottobre 2021! 8 ottobre! Che attendono Samus che come al solito è una donna ma da primo impatto ha sembianze maschili! 2! 2! 2! 3! 3! 3! Dragon Ball Z! Karakot! Kakarot! Più mia! Non ho finito di leggere! S2 G7! Sembra un gioco fatto a te! Sembra che... Sembra che in questo momento Vegeta stia usando Clyde di Kingdom Hearts! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 3! 3! 3! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 7! 5! 9! 11! 1! 10! 10! 11! 12! 12! Due persone possono giocare contemporaneamente E meno male Quindi fate bravi altrimenti Così non ci siamo Dottor Craigor e Mona Ma perché Wario Sì questo video di gioco più o meno già esisteva Che bello sta usando una Switch Lite Wario Warrior Get It Together 10 settembre Beh ma perché la roba migliore Sempre più la UFA Qui si creata l'avventura di link che ricordo quando ho provato quando l'ho provato mamma mia uno sclero assurdo e va bene ma perché tra tutti i giochi game watch hanno scelto quel gioco per link ma non ha senso ma sceglietene uno che abbia senso con link non i martelli i martelli non c'entrano molto con di va bene amici questo era questa era la mia reazione al nintendo direct spero che vi sia piaciuta come dico sempre iscrivetevi mettete il piace andate tanti bei commenti di una pagina instagram youtube ovviamente che trovate sotto nella descrizione in questo video attivate la campanella condividetemi i video sui social e noi furabbiotti niente alla fine Tekken ti ha battuto è uguale va bene presto cheater O, 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 WAAAAAAPP I MERE. .. uà 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 uà